In esclusiva assoluta alla Farmacia Mari, Bioniche Cosmeceutical, il nuovo trattamento cosmetico antietà. Mercoledì 18 gennaio, su appuntamento, un consulente Bioniche ti farà provare gratuitamente questi prodotti. E per tutta la giornata, sconti dal 10% al 40% su tutta la linea Bioniche. Farmacia Mari è vicina a te ogni giorno.